Sì, sono Francesca Massina, lei è della Brown, stiamo all'espiderio della Massina ed entrambe vogliamo ringraziare la signora Isabetta Franchi e la signora Isabetta Franchi per averci dato la possibilità di spiegarvi meglio questi splendidi animali. Allora, mi raccomando, quando vi avvicinate a un qualsiasi tipo di animale siete sempre permesso al proprietario, se potete toccarli, e soprattutto se volete dargli da mangiare chiedete cosa può andar bene e cosa non può andar bene. Quindi, mi raccomando, nel caso dei cavalli sappiate che possono avere dei mal di pancia che a volte possono essere fatali per loro. Quindi, state sempre attenti, chiedete sempre ai proprietari e quando volete nutrirli mettete la mano in questa posizione. Grazie per l'attenzione e ricordate EF Loves Animal! Grazie per l'attenzione e ricordate EF Loves Animal Amore mio! Cori, ti piace il pastone? Eh? Ti piace il pastone? Ti piace? Tante? Quante? Ah sì? No, sta mangiando l'erba! Io cosa devo fare? Cosa devo fare? Adesso fa la crutina! No, sta mangiando l'erba! EF Loves Animal EF Loves Animal Compaol EF Loves Animal Grazie a tutti. 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 Se vuoi puoi, è vero? Comunque, guardate, non so se si vede. Io non so se si vede però. Cioè, vedete? C'è. L'addominalino c'è. E poi, ragazzi, io ho 53 anni, ragazze, io ho 53 anni, non ne ho 25 come la maggior parte di voi, quindi... Wow, bisogna veramente essere accorti per riuscire a riuscire a riuscire. e grazie a tutti. se mi fa, dunque, ero io è un'altra cosa. Nella palestra, io di tutte le cose che ho qua, uso questi, uso l'elastico, uso i pesi, le cavigliere e uso questo materassino e soprattutto uso l'iPad. Basta, quella, quella, questa, non uso nulla, c'è Selene e il mio corpo, potrei essere qui, fuori in giardino, in un bagno, con tre atlette. Chi di voi vuol cominciare, provatela perché è pazzesca. Vabbè, dai, ciao!